Salve, salve da Marco Calabro per conto di Amaci Casa Italia, ci troviamo oggi da Mobili Fumo a Ravanusa in provincia di Agrigento, stiamo vedendo una cucina dell'Astra, la cucina si chiama tecnica, è stata chiamata tecnica perché proprio dal punto di vista tecnico sono state progettate e realizzate per questa cucina delle applicazioni che già venivano utilizzate e che sono state sperimentate dalla NASA. Questa cucina che stiamo vedendo oggi è in noce, abbiamo anche una versione, vediamo qua il campione, una versione parisandro che è un legno molto robusto che ormai dagli anni 70 è presente sul mercato, quindi sperimentatissimo. Andiamo alla cucina, la cucina come stiamo vedendo, questa qua è la versione noce, cominciamo a vedere questo piano, questo piano è bellissimo, la cucina è lucida, questo piano è bellissimo perché il colore noce comunque resta un colore importantissimo nell'arredamento, la cucina poi ci viene proposta bicolore, ovvero sia abbiamo la parte superiore laccata, la parte superiore laccata la stiamo vedendo in questo colore beige, però considerate che si possono realizzare tutti quanti i colori del raw. Andiamo avanti, vediamo questa vaniglia importante in acciaio che è stata messa su quest'antina, la cucina prosegue, guardate che bella anche questa cappa, la cucina prosegue con una parte incassata nel muro che viene parte utilizzata come colonna e parte utilizzata come frigorifero, così viene completata questa cucina. Ecco qua richiudiamo, grazie sempre per la vostra disponibilità e a risentirci al prossimo video.